Musica Musica Grazie a tutti. 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 Buonasera. Buonasera Fabio, un saluto anche agli ascoltatori. Per estendere il discorso a coloro caduti in servizio, in particolare è il caso di dire in questo specifico caso caduti per servire quello che era il Regno d'Italia. Ha fatto riferimento prima alla Prima Guerra Mondiale, ha raggiunto un grande obiettivo anche grazie a Radio Cusano Campus, alla Storia Oscura, a Cusano Italia TV, a Crimini e Criminologia, a quella che era l'appuntamento con Aspasso nel Tempo, il presidente del Comitato per il Ripristino del 4 novembre come festa nazionale, il tenente Pasquale Trabucco. Buonasera Fabio, un obiettivo, e poi ne parleremo, comunque in parte raggiunto, ma adesso l'obiettivo principale del tenente Trabucco per rendere omaggio a tutti i caduti della Grande Guerra e non solo, soprattutto ricordare il 4 novembre che diventi festa nazionale. Ma torniamo al caso Moro, vedete il nostro titolo che avete visto anche nei titoli principali, la strage di Viafani e i tanti misteri del caso Moro, introduciamo come facciamo sempre l'argomento, andiamo a rivivere quel drammatico 16 marzo del 1978 con il servizio di Aurora Vena, vediamo. La mattina del 16 marzo del 1978, Moro esce dalla sua abitazione pochi minuti prima delle nove, ad attendere davanti al numero 79 di Via del Forte Trionfale, il caposcorta maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi. L'ha puntato Domenico Ricci e tre agenti di polizia, Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Il presidente dell'ADC sale a bordo della Fiat 130 e siede sul sedile posteriore della prima automobile. Di fronte a lui l'autista Domenico Ricci e il maresciallo Leonardi. I tre agenti li seguono in una seconda macchina, un'alfetta. Pochi minuti dopo le nove, le auto imboccano via Mario Fani, quartiere trionfale, dove le strade sono larghe e poco trafficate. La via è leggermente in salita e le macchine che arrivano da via trionfale sono costrette a rallentare prima dello stop all'incrocio con via Stresa. Verso la fine di via Fani, una Fiat 128 familiare guidata dal brigadista Mario Moretti esce dal parcheggio e improvvisamente inchioda, provocando il tamponamento dell'alfetta di scorta con la Fiat 130 del presidente. Intanto, una seconda auto con due brigatisti a bordo esce dal parcheggio, come aveva fatto Moretti, e si mette in coda al convoglio. Un'altra automobile ancora si trova invece nel mezzo dell'incrocio, con il compito di tenere lontani curiosi ed eventuali auto della polizia. È in questo momento che, da dietro le siepi del patio del bar Olivetti, spunta il gruppo di fuoco. Quattro persone, camuffate con le divise all'Italia. Le raffiche di proiettili uccidono in pochi secondi i cinque uomini della scorta. Solo Iozzino riesce a uscire dall'auto e a rispondere al fuoco prima di essere freddato. L'azione dura pochi secondi. Almeno 93 i colpi esplosi, di cui 45 raggiungono gli agenti. L'ex presidente del Consiglio viene prelevato e fatto salire su un'altra auto del commando, entrata in retromarcia da via Stresa. La prima chiamata al 113, in cui una voce in forma di una sparatoria in via Fani, è delle 9.03. Quindi è probabile che proprio in quei minuti le auto delle BR stessero percorrendo a gran velocità le strade del quartiere Montemario, per allontanarsi dal luogo della strage. Il piano dell'Aguato colpisce ancora oggi per la sua minuziosa pianificazione, ma anche per la serie di interrogativi rimasti senza risposta. La strage di via Mario Fani, il caso Moro, servizio di Aurora Vena. E allora adesso cominciamo, primo giro di domande per i nostri ospiti. Gabriele Rao. Io vorrei partire proprio da Giovanni Ricci, figlio di Domenico. Parlare oggi di Aldo Moro significa anche non spostare il focus dalla vittima o dalle vittime ai carnefici, però anche ricordare la recentissima scomparsa di Barbara Balzerani, che poi ha dato vita a una serie di gravi, diciamo così, polemiche, richiami. Vorrei innanzitutto chiederle se lei ha avuto modo nel corso degli anni di parlare, di interfacciarsi direttamente con lei o con qualcun altro dei brigatisti, dell'articolato gruppo di brigatisti, secondo alcuni ancora non del tutto definito, che prese parte, insomma, alle azioni del marzo del 78 e poi di lì in avanti. Sì, cominciamo da Barbara Balzerani, ho conosciuto durante una presentazione di un libro una donna ancora ancorata a quell'ideologia, una donna che credeva ancora in quello che aveva fatto, non aveva nessun segno né di pentimento né di dissociazione addirittura. Io, come ho detto all'atto della sua morte, per lei ho avuto una preghiera, perché in fondo quando muore qualcuno è giusto pregare per quella persona, però rammentando che non si è mai dissociata, mai pentita, è sempre stato irriducibile. Nel corso della mia vita ho avuto invece modo di incontrare altre persone, penso a Adriana Faranda, a Franco Bonisoli, ma anche ad altri, a Andrea Coi, a Semeria, a Grazia Grena, che sono terroristi, che però hanno dato una svolta alla loro vita, dopo aver scontato interamente la loro pena, hanno fatto un percorso di riabilitazione, di giustizia riparativa, per arrivare proprio a quello che è stato l'assumersi la piena responsabilità delle loro azioni di fronte alle vittime. E questo in altri è mancato. E questo in altri, in molti altri, come nella Balzerani, è mancato purtroppo. Adesso invece voglio ricordare un bel evento che si terrà il 14 marzo prossimo, e possiamo vedere la locandina che riguarda Musica per la Memoria, evento per non dimenticare le vittime del terrorismo delle forze dell'ordine. E quindi noi ci siamo un po' ispirati a questo evento, dedicando una puntata a tutte le vittime del terrorismo, ma a tutti i caduti in servizio per lo Stato. Ci sarà la banda musicale della Polizia dello Stato, orchestra d'archi, incontri mediterranei. Giovedì 14 marzo alle 20.30 presso l'Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti, numero 47. La direzione artistica è affidata a Mario Ciaccio. Allora parliamo di questo grande evento in arrivo, che poi non è la prima volta che avviene. Ci sono stati in passato altri eventi simili. Grazie Fabio. Sì, questa è la seconda edizione. Musica per la Memoria nasce da una lunga telefonata, una tarda serata col Presidente Ricci, nel quale discutevamo su una nuova forma di ricordo per tutte le vittime cadute per mano del terrorismo in divisa. Ci sono tantissime manifestazioni nel nostro paese che ricordano queste vittime, e manifestazioni formali, vedi la mattina del 16 marzo ogni anno in Via Fani e tutto. Ma abbiamo cercato di elaborare un nuovo modo di ricordare queste vittime, perché spesso si parla della vittima dell'attentato come uomo della forza dell'ordine stop. Senza pensare, e forse in questo momento è preminente, è opportuno pensare che ci sono famiglie dietro queste vittime, ci sono uomini con le loro vite, con i loro hobby, gusti e aspirazioni. Allora tutto questo ci ha fatto cercare in qualche modo una nuova via, e in quella discussione abbiamo cominciato a capire intanto se c'erano dei testi già pronti o se ne dovevamo creare alcuni per poter raccontare le vite delle famiglie di queste persone. Io stesso faccio parte della Polizia di Stato, quindi mi rendo conto che spesso noi dobbiamo dare un'immagine al pubblico, formale, dare quindi un messaggio di sicurezza e tutto, però siamo uomini come gli altri. E quindi volevamo raccontare anche questa parte della vita di questi uomini che hanno perso la vita per tutti noi. Ecco che abbiamo trovato un libro che è poi il leitmotiv della parte letterale dell'evento, che è il libro Anni Bui di Salvatore Lordi, che racconta le vite fatte tramite le interviste alle famiglie, alle sorelle, alle mogli. E queste interviste ci raccontano che musica ascoltavano, cosa gli piaceva fare, dove si sono incontrati e dove si sono innamorati con le mogli. Ecco abbiamo fatto un sunto e abbiamo scelto e scegliamo ogni anno otto vittime, anche per motivi tecnici chiaramente, e raccontiamo queste storie e chiediamo alle famiglie qual è la musica che la vittima o la famiglia ascoltavano un po' prima che succedesse la strage. Ecco perché si chiama musica per la memoria. Abbiamo unito la storia familiare a una musica, a un leitmotiv musicale, che collega la storia della persona. Questo è molto bello, peraltro poi lo stesso Mario Ciaccio ci leggerà dei brani proprio a proposito di questi ricordi. Per il tenente Trabucco, Gabriele Rao. Sì, ecco io vorrei chiedere innanzitutto al tenente Trabucco un ricordo, come dire, di quel periodo, di quel episodio, parliamo in particolare del sequestro, e poi rifacendomi al nome proprio appunto del comitato 4 novembre, vorrei anche chiederle quanto di quello che è successo rimane, perme ancora un po' la memoria collettiva, oppure se il nome di Aldomoro e degli agenti che sono deceduti venga utilizzato soltanto così, un po' per ripulirsi la coscienza, come un feticcio e non come un ricordo vivificante di riferimento nella nostra società. Ma io ho un ricordo indelebile del 1978, di quel 16 marzo, perché ero uno studente al liceo e la notizia per Roma, ma per l'Italia tutta, circolò immediatamente. Ricordo di aver preso immediatamente il motorino, scendo di corsa proprio da scuola per andare a prendere la mia fidanzata da allora, portarla a casa in una maniera protetta, perché veramente Roma in quel momento, in quell'istante, si sentì veramente sotto l'assedio da parte di questi terroristi, terroristi che non erano solo quelli di quel momento, ma degli anni precedenti e poi degli anni successivi. Quindi è un ricordo indelebile, nella mia mente, come penso in quella di tutti quanti gli italiani. Così come un ricordo indelebile dovrebbe essere, la seconda domanda che mi ha fatto, quella del 4 novembre, è il ricordo collettivo che dovrebbe essere vissuto proprio perché quel 4 novembre 1918 finalmente si è fatta l'Italia. Ed ecco perché per cinque anni, quasi sei, abbiamo combattuto, fino ad arrivare finalmente di recente, il 28 febbraio, a far approvare una legge che riporta almeno in questo momento a ricordare quella data, il giorno in cui cade. Non è più la prima domenica del mese novembre, ma sarà il giorno in cui cade. Quindi quest'anno, per esempio, il 4 novembre sarà lunedì e verrà ricordata in quel giorno. Ma la cosa ancora più importante, qui mi riallaccio proprio al discorso che stava facendo anche Gianni Ricci, il discorso degli uomini, dei servitori dello Stato. Ricorderemo quindi anche le forze armate, perché la legge 260 non sarà più con questa nuova legge chiamata soltanto festa dell'unità nazionale, ma festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Noi ricordiamo quei cartelloni dove c'è scritto anche delle forze armate, ma era un di più, non c'era, da oggi c'è. Questo è importante. Un messaggio? Abbiamo già qualche messaggio? Stanno già affluendo dei messaggi, la nostra redazione è a lavoro. Vorrei ringraziare Guglielmo che ci sta seguendo da Napoli e che ricorda un altro nome celebre, tristemente celebre, quello di Nicola Barbato che è deceduto ieri, il poliziotto eroe che fu ferito gravemente nel 2015. Oggi voglio ricordare che la Polizia di Stato ha anche dedicato un video veramente molto commovente a Barbato che è stato poi rilanciato dalle varie agenzie che invito a reperire, se possibile, a chiunque ci stia guardando. Invece vado a Gianluca Cicinelli, possiamo vedere adesso quella che è la copertina di questa video inchiesta, coperti a destra. Eccola qua, la video inchiesta di Gianluca Cicinelli. La vogliamo introdurre e poi vediamo subito un estratto, Gianluca. È una video inchiesta che si concentra sui 90 secondi della sparatoria in via Fani e che volutamente resta su ciò che di fisico e materiale è stato possibile analizzare, ovvero non si avvale delle testimonianze per una scelta precisa metodologica, ritenendo le fallaci al di là della volontà dei presenti in quel momento, che ovviamente erano anche sotto shock e probabilmente è una cosa a cui pensano ancora oggi tutti i giorni della loro vita. In base a queste analisi e rilevazioni fatte poi ricostruendo con il perito balistico pari dei Minervini, in un apposito spazio ricostruendo la sparatoria, siamo riusciti a confutare due importanti asserzioni che sono contenute in quello che oggi viene considerata un po' la Bibbia, ovvero la verità ufficiale di Stato e brigatisti su quanto è accaduto in via Fani. Il memoriale Morucci, possiamo dire. Il memoriale Morucci, che è un memoriale di opportunità o di opportunismo per far quadrare dei conti che non hanno a che fare con i fatti, ma con dinamiche successive alla strage di via Fani e fondamentalmente l'acquisizione che abbiamo fatto è di un intervento a destra di uno, sicuramente, probabilmente due persone, una inesattezza sicuramente nel descrivere le armi in possesso dei brigatisti secondo il memoriale Morucci. Poi sentiremo pari dei Minervini, però forse pochi sanno che qualche mese prima dell'agguato di via Fani, in Germania, a Colonia, nel settembre del 1977, c'era stato il rapimento di Arn Martin Schleyer, che era il presidente della confindustria tedesca, fu rapito da quella che era la RAF, la Rotarmefazione, a proposito di terroristi tedeschi, in questo caso. E Gianluca Cicinelli, nella sua videoinchiesta, ne ha parlato con lo storico Gianluca Falanga, il quale ha ricordato proprio come la stessa modalità della strage di via Fani ricorre nel rapimento del presidente della confindustria tedesca, Arn Martin Schleyer, e come detto, settembre 77, marzo 78, quindi due eventi che furono divisi da pochi mesi l'uno dall'altro, a far pensare che poi evidentemente le Brigate Rosse usarono la stessa tecnica. Sentiamo e vediamo lo storico Gianluca Falanga. In questa strada fu preparato questo agguato con la cosiddetta tecnica del cancelletto, cioè sbarrare la via al convoglio. In questa strada era percorribile in una sola direzione, per cui era chiaro che sarebbe entrato da una certa parte, e fu preparata con la tecnica del cancelletto questa trappola. Il convoglio di Schleyer era composto di due Mercedes, Schleyer viaggiava con l'autista, l'autista non era armato, e viaggiavano nella prima autovettura, seguiti dalla scorta che era composta invece da tre persone, da tre polagenti di polizia, a loro invece erano armati. Il cancelletto praticamente fu costituito da una Mercedes guidata da Stefan Wisniewski, che era un militante della RAF, che pretende in retromarcia invade la carreggiata, e dall'altro lato arriva invece Siglin de Hoffman, anche lei della RAF, insieme a Peter Jürgen Bock, che praticamente fingono di essere una coppietta con un bambino dentro un passeggino. Insomma, il passeggino e la Mercedes sbarrano la strada, avviene la frenata, e la macchina di dietro con la scorta va a urtare la macchina di Schleyer. A quel punto poi i militanti della RAF tirano fuori le armi e in un minuto e mezzo di sparatorio praticamente, una cosa rapidissima, più di 120 colpi sono stati sparati, armi automatiche sovietiche, di fabbricazione sovietica, e la scorta è stata trucidata, uno dei tre è riuscito a uscire, ma è stato poi fulminato, e poi hanno tirato fuori Schleyer, l'hanno portato via con un altro veicolo, un furgoncino della Volkswagen. L'hanno poi portato, cambio di autoveicolo, anche questo molto simile al sequestro Moro, e poi portato prima a Colonia, in un appartamento, quindi è rimasto praticamente nella città per diversi giorni, quello è il primo cosiddetto carcere del popolo, poi Schleyer è stato trasferito in Olanda e in Belgio, lì è nella parte conclusiva del sequestro. E poi finì anche con la morte dello stesso Ann Martin Schleyer, presidente della Confindustria della Germania, settembre 1977, a Colonia venne quello che poi pochi mesi dopo, di fatto si verificò in via Mario Fani, modalità molto simili, anche se poi cambiano alcuni aspetti, però avete sentito lo storico Gianluca Falanga, intervistato da Gianluca Cicinelli, Cicinelli ci ha ricordato quell'evento, lì i protagonisti terroristi della RAF, le Brigate Rosse evidentemente seguirono quello stile, oppure chissà, la stessa RAF può aver comunque aiutato, coadiuvato le BR nell'agguato di via Fani. Gabriele Rao. E io su questo punto, anche un po' per allacciarmi alle parole che abbiamo appena ascoltato, tornerei da Giovanni Ricci, per chiedergli in qualità appunto di figlio di una delle vittime, come ha recepito nel corso degli anni tutti i dubbi, le perplessità che si sono sollevate su molti fronti, anche restando proprio, come dire, confinati a quella drammatica data di marzo, a proposito delle persone, del numero di persone effettivamente presenti sulla scena del crimine, e non solo, molte sono le perplessità che sono state sollevate, alcune le abbiamo già commentate, vorrei chiederle se lei ha qualche riflessione maturata negli anni su questo punto. Ma su questo sicuramente partendo anche da quello che ha citato prima il buon Gianluca Cicinelli, il Memoriale Morucci. Il Memoriale Morucci all'atto della compilazione riporta dei numeri in prima stesura, parliamo di metà degli anni Ottanta, per poi arrivare nel 97 quando viene consegnato a Cossica con un post-it di Valerio Morucci in cui si parla dei nomi. Ci sono i nomi di queste 11 persone presenti in Viafani. Il problema è che sicuramente ce n'erano diverse di più. Ci si è assicurati con questo memoriale che non venissero scoperte le altre persone. Si discuteva poco prima della trasmissione con Cicinelli, appunto dei mezzi usati. I mezzi usati, secondo i brigadisti, furono la 128 familiare, le 228, caccia e letto superiore, caccia e letto inferiore, ma è la 132 che portò materialmente Via Moro. Eppure rimane il fatto che quello spazio in cui Spiriticchio, il fioraio a cui bucarono le gomme il giorno prima, diceva che non trovava mai posto la mattina, era incredibilmente libero. Sembra strano, ma per l'attentata al giudice Palma di un mese prima erano state impiegate 19 persone, qui vengono indicate solamente 4 persone, e che per la stessa ammissione di Mario Moretti nemmeno sapevano sparare. Insomma, i conti un po' non tornano, ci sono delle cose. Certo è che agli atti processuali di quei sei processi Moro ci sono le testimonianze dei brigadisti e la verità è stata scritta interamente dalle loro parole. Dubbi? Sì, qualcosa, non tutto, ma soprattutto volevo far notare come non si è riuscito a divenire allo step successivo a quello di chiedersi la responsabilità politica di quel periodo, perché una cosa che non si è ancora mai chiarita definitivamente fu quella linea della fermezza voluta due ore dopo il rapimento di Aldo Moro dai due maggiori partiti interessati in questo caso e la democrazia cristiana e il Partito Comunista Italiano. Vi abbiamo svelato, grazie alla videoinchiesta coperti a destra di Gianluca Cicinelli, quello che era avvenuto in Germania a Colonia nel 77, pochi mesi prima dell'agguato di Via Fani e del rapimento Moro. Tra poco vi sveleremo un altro particolare relativo a Piazza Galeno, quello che avvenne il 15 marzo, quindi prima della strage di Via Fani. Sempre grazie a questa videoinchiesta, ma ovviamente continueremo a parlare con i nostri ospiti e si aggiungerà anche un altro ospite che ci porterà una testimonianza davvero molto particolare. Quindi restate con noi. E ben ritrovati, secondo capitolo di Crimine e Criminologia. Vediamo in primo piano, per ricordare a beneficio di chi si fosse messo solo ora in ascolto di Cusano Italia TV, di cosa parliamo. Il tema centrale, a pochi giorni dalla ricorrenza, saranno 46 anni, la strage di Via Fani e i misteri del caso Moro. Continuiamo a parlarne con Giovanni Ricci, che è il figlio dell'autista di Aldo Moro, Domenico Ricci caduto in Via Fani, poi Mario Ciaccio, direttore artistico dell'Associazione, Domenico Ricci per la memoria dei caduti di Via Fani, quello che vedete è Gianluca Cicinelli, giornalista investigativo e di inchiesta. E poi il tenente Pasquale Trabucco, presidente del comitato 4 novembre Festa Nazionale. Ma diamo subito la buona serata a un altro ospite, che è in collegamento da remoto. E ritroviamo anche lui, con piacere, l'ex poliziotto Maurizio Ortolanne. Buonasera. Salve, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti voi. Perché Maurizio spesso, devo dire, fucina di aneddoti, di riferimenti storici molto particolari. Con lui parlammo, Gabriele lo ricorda naturalmente, del caso di Katie Scherl, della ragazza che poi molti hanno accomunato, la scomparsa di Emanuele Orlandi e di Mirella Gregori, quella ragazza che fu trovata morta a Grottaferrata, in una vigna di Grottaferrata, nel 1984, all'inizio 84, quindi le altre due ragazze erano scomparse nell'83, e da poliziotto si occupò del caso Scherl, proprio Maurizio Ortolanne, che ora però ha un altro aneddoto da raccontarci, legato ad Aldo Moro e alla sua scorta, al maresciallo Leonardi nello specifico. Allora, lo facciamo raccontare subito questo ben ricordo, vedendo la foto di quello che era il libretto universitario, ovviamente all'Università di Roma, la Sapienza, eccolo qua, di Ortolanne Maurizio, come è scritto in alto a sinistra. In basso è evidenziata la data, 26 luglio 1977, esame di procedura penale, 27 prese Maurizio Ortolanne, e la firma che vedete a fianco è di Aldo Moro. Ecco perché il documento è molto particolare, e oltretutto anche qui pochi mesi prima di quella tragedia. Maurizio, allora, questo ricordo, ricordo anche che tu hai del maresciallo Leonardi, che ogni volta entrava nell'aula universitaria, che era piena di disturbatori all'epoca, no? Beh, quello era un anno un po' particolare nel 1977, per chi si lo ricorda erano degli indiani metropolitani, e lì a Scienze Politiche succedeva che molto spesso, quasi per tutte le lezioni, c'erano gruppetti di studenti che venivano e interrompevano la lezione. Infatti, verso gennaio, mi pare, il professor Moro decise di spostare la sede delle lezioni. Noi a lezione andavamo all'aula 12 e all'aula 13, che stavano al piano terra della Facoltà di Scienze Politiche. E da gennaio invece ci spostammo in una scuola privata che stava in via 20 Settembre, tramite, ovviamente, il Presidente l'aveva individuata e ci avevano messo a disposizione questi locali. Quindi per buona parte dell'anno accademico, fino quasi al periodo degli esami, fino quasi al giugno, noi andammo a lezione lì. Le lezioni c'erano una o due volte a settimana e siamo tornati in facoltà soltanto verso la fine dell'anno accademico. Ecco, e vorrei tornare adesso da Mario Ciaccio, che per chi non lo ricordasse è il direttore artistico dell'Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di Via Fani. Dunque, non voglio anticipare troppo, però oggi Mario Ciaccio vuole leggere un materiale, per così dire, veramente molto prezioso e su questo le lascio la parola. Eh sì, spieghiamo esattamente, perché possono fare i fondi, però è soprattutto un ricordo dei caduti e dei familiari dei caduti. Sì, come ho detto prima, noi abbiamo raccolto otto storie per la celebrazione del nostro evento. Questa sera la serata è dedicata principalmente alla memoria della strage di Via Fani e ho deciso di leggervi in due parti, tre parti. La storia che abbiamo è che sarà la prima della serata del 14 marzo e quella di Giulio Rivera. Giulio Rivera, che faceva parte della scorta di Aldo Moro. Sì, questa storia è stata scritta dal professor Antonio Morino, che è docente dell'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, che poi è stata la scuola che è stata dedicata proprio a Giulio Rivera. E allora, leggiamo intanto la prima parte. Intanto scurrono le immagini, questa è Via del Forte Trionfare, la casa di Aldo Moro, il maresciallo Leonardo, prego. Buonasera, sono Giulio Rivera. Sapete, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato parte dell'ascolta di Aldo Moro e neanche che anni dopo una scuola come quella di Guglionesi sarebbe stata dedicata al mio nome. È la scuola che frequentai da ragazzo. Dove conobi le prime belle emozioni di vita, quelle che ti insegnano e ti aprono un mondo che senti di conoscere e un po' anche di sfidare. Mi iscrissi all'Istituto Agrario a Termoli, poi mi prese la voglia di vivere subito e, come tutti i ragazzi del mezzogiorno, emigrei al nord in cerca di lavoro. Iniziai in una fabbrica cimentandomi in un'esperienza nuova che non era però il lavoro che conoscevo, quello della terra. Dopo qualche anno arrivò la cartolina che parlava chiaro, chiamato per il servizio militare. Non potevo tirarmi indietro. A Natale decisi di iscrivermi alla scuola allievi guardie di pubblica sicurezza ad Alessandria, che fu per me un'importante esperienza. La prima volta che indossai la divisa mi guardai lungamente allo specchio. La casacca trasmetteva tanti significati e cominciai ad essere orgoglioso di quel ruolo che avevo scelto e ne compresi il significato più profondo. Il clima di quegli anni in Italia era rovente, ricordiamoci le stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia. Io ero lì, in prima linea a Milano, e non mi rendevo conto di ciò che capitava intorno a me. Forte di questa dura esperienza, nella Celere mi iscrissi al corso scorte di Abbasanta in Sardegna. Volevo crescere, difendere chi nelle istituzioni lavora per il bene del paese. Ormai avevo scelto. Dopo qualche settimana venne inviato a Roma, proprio nel reparto scorte. Finalmente ce l'avevo fatta. Questa è la prima parte. Poi la sentiremo, è sempre molto toccante ascoltare questi ricordi. Ora torno a Maurizio Ortolana, perché poi mi collego a Piazza Galeno, perché riguarda sempre l'università. Ecco, Maurizio, il tuo ricordo, perché mi hai detto nel preparare questa puntata, che avevi modo proprio di vedere come si comportava la scorta di Aldo Moro, in particolare il maresciallo Leonardo, prima delle lezioni del professor Moro all'università. Entrava Leonardo. Ecco, racconta bene tu. Sì, noi eravamo già da qualche minuto prima in aula, prima dell'orario previsto della lezione. E quando arrivavano loro, la scorta non entrava mai dentro. Però veniva in aula il maresciallo Leonardo, veniva a dare un'occhiata, ma in realtà si era creato un clima di familiarità con noi studenti. E ci conosceva, non dico uno per uno, ma insomma, in grosso modo sì. E entrava, dava un'occhiata in giro, dopo un paio di minuti entrava anche il presidente, che spesso si intratteneva anche fuori, nel corridoio per parlare con qualcun altro. La facoltà lì era un posto abbastanza infelice dal punto di vista delle scorte. Lo dico perché poi, diciamo, professionalmente mi sono occupato anch'io di questo tipo di attività. Era infelice perché sia l'aula 12 che la 13 si affacciavano sul retro in un cortiletto che dava poi verso scienze statistiche, verso un'altra facoltà. e lì praticamente non c'era mai nessuno. In realtà non c'era nessun tipo di vigilanza, nessun tipo di sorveglianza. E spesso io mi chiesi, non profeticamente, perché già all'epoca insomma c'era un pericolo del terrorismo, e mi domandavo ma è possibile che non mettano qualcuno di là? Perché per quanto sia insomma è un personaggio politico di primo piano il professore. Dietro però non c'era mai nessuno. E in effetti si prestava abbastanza quel posto per un attentato, per un'azione eclatante. Anche perché come dicevo prima non c'era giorno, non c'era una volta che non venissero dei ragazzi a disturbare lì. E la scorta non è mai intervenuta anche perché erano diciamo delle interruzioni tutto sommato abbastanza pacifiche, turbolente ma comunque pacifiche non c'era il rischio di violenza. Però alla fine poi il presidente si stufò come dicevo prima e decise di spostare anche perché non si poteva quasi mai fare lezione di spostare la didattica in questa scuola privata di 20 settembre. Peraltro voglio ricordare non è un poliziotto qualsiasi, non è stato un poliziotto qualsiasi, Maurizio Ortolan ha partecipato all'arresto di Bernardo Provenzano, tanto per fare un nome. È un poliziotto antimafia. Lui su questo è sempre molto modesto, umile e non vuole che venga detto però è bene sottolinearlo. Già all'epoca avevi il fiuto e avevi capito che la situazione era abbastanza drammatica Maurizio. E poi ero anche perplesso, io ancora non ero in polizia, all'epoca lavoravo le ferrovie dello Stato, il concorso in polizia lo feci qualche anno dopo nel 1982 e all'epoca lavoravo in ferrovia, avevo già l'idea di andare in polizia e per quello anche frequentavo scienze politiche perché volevo entrare con una qualifica adeguata e mi sarei dovuto laureare proprio con il professor Moro e infatti la condizione per poter ottenere la tesi da lui era quella di frequentare le sue lezioni perché il professor Moro teneva il registro cioè lui faceva l'appello quando arrivava a lezione aveva un appello e ci conosceva praticamente tutti quanti aveva i nostri regabiti il numero di telefono infatti con quel sistema si organizzò poi il trasferimento della didattica il 20 settembre attraverso un giro di telefonate perché lui aveva tutti quanti i nostri regabiti e dicevo era un po' meravigliato della forse della serenità e della tranquillità con cui lui affrontava le lezioni perché ripeto erano anni abbastanza difficili tutti i giorni sul giornale quasi e anche il clima stesso dell'università a livello un pochino più basso non violento però insomma c'era sempre movimento e io l'anno successivo io mi feci l'esame con lui nel luglio del 77 e a marzo del 78 poi ho preso un appuntamento tramite il professor Tritto che era il suo assistente uno dei suoi assistenti più giovane e ho preso un appuntamento perché potevo farmi assegnare la tesi e soltanto che 4 o 5 giorni prima della data fissata per l'appuntamento le BR se lo portarono via e quindi mi laureai anni appresso con il relatore che fu proprio il professor Tritto che era all'epoca l'assistente e poi diventò titolare di cattedra a scienze politiche della cattedra che era stata del professor Moro e rivediamo il libretto universitario di Maurizio Ortolano con la firma del professor Aldo Moro a proposito vedete 26 luglio 77 con l'esame in procedura penale 27 prese Maurizio Ortolan il professor Tritto è passato anche lui tristemente alla storia per la famosa telefonata quella di Morucci delle BR informano il professor Tritto del ritrovamento che la famiglia avrebbe ritrovato il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani nella triste Reno 4 Rossa ringrazio Maurizio Ortolan per il prezioso contributo lo salutiamo prima del previsto perché ci sono stati un po' di problemi di logistica Maurizio quindi non ti tratteniamo oltre grazie per il tuo contributo grazie a voi buona serata a tutti buon ascolto grazie a presto naturalmente voglio restare però all'università con il contributo tratto da la video inchiesta coperti a destra vediamo questo primo contributo che riguarda Piazza Galeno con Gianluca Cicinelli sul posto il 15 marzo il 15 marzo del 1978 una prova generale o quella che sembra tale dell'agguardo del 16 marzo in via Fani si verifica in Piazza Galeno dove sta arrivando la 130 con a bordo Aldo Moro seguita dall'alfetta della scorta di provenienza dall'università Aldo Moro sta andando verso il suo ufficio in via Savoia 88 e a causa di una pioggia battente la macchina davanti alla 130 inchioda costringendo anche la 130 a frenare non farà in tempo per frenare invece l'alfetta che segue Aldo Moro ecco questo contributo e quello che seguirà sono molto importanti perché penso poi pochi conoscano questo episodio allora vediamo il secondo contributo noi siamo a conoscenza dell'incidente del 15 di marzo esclusivamente perché esiste un brogliaccio di servizio in cui l'agente alla guida dell'alfetta deve fare un verbale per giustificare il motivo della rottura dell'auto che verrà sostituita poi durante l'ora di pranzo infatti l'alfetta del 16 marzo non è quella dell'incidente del 15 di marzo ma come dicevo noi siamo a conoscenza di questo particolare esclusivamente per questo brogliaccio l'autista della 130 invece una volta interrogato sia in fase di processo penale che per quanto riguarda le commissioni di camerali di inchiesta che si sono occupate del caso Moro negli ultimi anni non ricorderà di questo incidente seppur incalzato più volte dal presidente del tribunale dagli avvocati ma anche dai componenti della commissione dirà di non ricordare assolutamente questo episodio eppure è un episodio molto importante perché chi si fosse trovato a osservare cosa accade il 15 marzo saprà anche cosa sarebbe accaduto il 16 di marzo ecco questa osservazione di Gianluca Cicinelli è fondamentale ho detto pochi magari sapevano dell'esistenza di questo episodio che avviene il 15 marzo quindi sembrano quasi le prove di quello che poi accade il giorno dopo il 16 in via Fani Gabriele Rao vorrei passare a Giovanni Ricci che siede proprio in questo momento a fianco di Gianluca Cicinelli abbiamo ascoltato appunto delle parole relative anche alla ricostruzione globale dell'incidente della fase precedente poi agli spari veri e propri vorrei chiederle dato che è stato detto un po' tutto il contrario di tutto anche a questo proposito c'è chi ha versato fiumi di inchiostro a proposito del tamponamento del mancato tamponamento eccetera quanto lei ritiene che una accurata certosina ricostruzione proprio diciamo dell'incidente dell'impatto prima che si procedesse purtroppo a questo orribile sterminio quanto tutto questo possa tornare utile anche per desumere delle informazioni altre sul rapimento stesso poi anche sulla prigionia di Moro su cui mi piacerebbe a breve tornare ma possiamo dire che la scena del crimine se così vogliamo chiamarla di quel giorno basta vedere il servizio di Fraiese fu altamente inquinata ecco inquinata perché c'erano tantissime persone lo stesso Fraiese pezza i bossoli lo afferma durante il servizio quindi non sappiamo in effettivamente quanti colpi siano stati sparati effettivamente dai terroristi sicuramente possiamo confermare che non c'è stato il tamponamento della 130 con la 128 cosa che va a cozzare con quanto affermato nel memoriale Morucci allo stesso Morucci dove dice che rimane sorpreso per come Ricci cioè mio padre fa avanti e indietro cercando disparatamente la via di fuga ma in effetti se andiamo a vedere il tamponamento della 130 o comunque questo avanti e indietro della 130 non avviene è vero che c'è un tamponamento dell'alfetta una volta colpito il povero Rivera lascia andare la frizione quindi lo colpisce ma dobbiamo pensare che via Fani è una via dove dal marciapiede da antistante il bar Olivetti ad arrivare alla mezzeria sono circa due metri e si spara da una distanza di 80 90 centimetri verso le persone c'è il famoso primo colpo c'è il resoconto della polizia scientifica che è stata che ha analizzato anni dopo con tecniche moderne quella scena del crimine che forse riesce a chiarire alcuni momenti però purtroppo basandosi su quelle che sono stati i resoconti soprattutto delle persone e dei racconti dei testimoni che incredibilmente erano quasi 150 testimoni ma sono stati auditi dalla polizia in quel caso solamente un'ottantina di persone non tutte sono state prese in considerazione e soprattutto c'è il fattore terrore quindi quante di queste testimonianze hanno raccontato le cose veritiere c'è per certo che per esempio una testimonianza molto importante che è quella dell'ingegner marini dove vede appunto la famosa moto onda viene stravolta anni dopo come è sbassato dire perché marini affermò che gli spararono addosso e colpirono il parabrezza il parabrezza non fu colpito ma in effetti qualcuno sparò così come spararono in quel momento verso il secondo piano del palazzo antistante il bar Olivetti dove si era affacciata una persona quindi la testimonianza di marini in cui dice io ho visto una moto onda da cui mi hanno sparato e che lo stesso procuratore nel 2014 Ciampoli procuratore generale di Roma metta gli atti su una inchiesta che poi purtroppo viene archiviata perché non si riesce a capire chi fossero coloro che erano a bordo di questa moto onda ma che dice va analizzato e prende le affermazioni di Marine come veritiere ecco quella purtroppo quella inchiesta è stata messa in un cassetto eppure dava degli interessanti spunti di opinioni di vista su un'analisi più approfondita di quella scena del crimine volevo sentire il tenente trabucco prima abbiamo fatto riferimento al 77 con Maurizio Ortolan sono gli anni di piombo è giusto fare sono due situazioni completamente differenti però possiamo dire che le forze dell'ordine in quegli anni 70 erano un po' come i fanti della grande guerra che andavano nella terra di nessuno assolutamente assolutamente sì erano proprio come quei fanti quasi allo sbaraglio in un certo senso allo sbaraglio erano uomini che davano il massimo l'abbiamo sentito l'abbiamo visto tutti quanti ma chiaramente avevano una preparazione possiamo dire per certi versi non adeguata a quello che era questo terrorismo che era uscito fuori all'improvviso se noi pensiamo che erano gli 70 77 sono soltanto sette anni possiamo ricordarci forse il sequestro Dozier ma insomma non avevano quella preparazione sì ma voglio dire non avevano appunto migliorano migliorano soltanto per quegli episodi che sono i precedenti in questo senso dopo Moro c'è Dozier che era liberato dalle forze speciali abbiamo avuto grazie anche al sacrificio di queste persone un miglioramento da parte di questi uomini vengono creati quelli che sono i corpi speciali immediatamente prima di Moro prima di Moro probabilmente tutto quanto questo non c'era anche la tranquillità in un certo senso prima ho sentito parlare di tranquillità era tutto al fatto che è vero che dal 74 avevamo avuto diverse azioni da parte del Brigade Rosse però ancora non avevamo compreso quanto potessero essere gravi e quindi questi uomini andavano piano piano preparandosi è soltanto dopo Moro che abbiamo una preparazione differente e infatti arriveremo poi alla sconfitta comunque militare la stessa Balzerani prima si parla di Balzerani nell'85 dichiara insieme ad altri le Brigade Rosse sono terminate questa esperienza politico-militare possiamo metterla da parte poi non è vero sono stati altri fatti possiamo ricordare via Prati di Papa del 1987 assolutamente sì però quella sconfitta mi sento di dire che quello che tu hai affermato erano come i fanti nostri che sono andati a fare una guerra chiaramente con tante difficoltà con armamenti approvvigionamenti che comunque non erano adeguati che hanno dato il massimo alla fine sono riusciti a vincere così come questi che non erano fanti erano uomini delle forze dell'ordine polizia carabinieri guardi di finanza che comunque alla fine con il loro contributo di sangue e di impegno sono riusciti a sconfiggere le brigate russe eh sì poi l'opera del generale Carlo Alberto dalla Chiesa del suo team portò alla sconfitta delle BR per chiudere questo capitolo Gianluca Cicinelli abbiamo visto l'episodio di Piazza Galeno se ne parla poco di quell'episodio ho detto pochi lo sanno non se ne parla per niente quasi per niente nel senso ne parliamo noi grazie a te il punto è un altro la domanda che nessuno si fa anche perché giustamente in criminologia si ragiona su ciò che è successo e non su ciò che poteva succedere è l'assoluta inutilità da un punto di vista militare della strage di Via Fani questo è un aspetto che non è mai stato dibattuto abbastanza perché dà un po' la dimensione del motivo per cui io ho piacere di incontrare Giovanni Ricci ma noi ci incontriamo tutti gli anni di questo intorno a questa data sono passati oltre 40 anni ci avviciniamo ormai 50 allora la domanda da fare perché ormai dai brigadisti è evidente che non viene più niente la domanda da fare allo Stato è a cosa serve il dolore ovvero il dolore ci permette se mettiamo una mano sul fuoco no? di ritrarci perché veniamo scottati tutto il dolore che è stato sprigionato in questi anni molte persone anche vittime innocenti sono finite in mezzo talvolta sono stati usati dei metodi anche da parte dello Stato censurabili nel caso Docher efficaci ma non degni di uno Stato democratico sono verbalizzati e riportati alla luce proprio in questi giorni da un lavoro fatto da magistratura democratica ora uno Stato che non riesce a generare gli anticorpi per questo dolore cioè noi ancora oggi abbiamo funzionari dello Stato mentre parliamo che sono coinvolti in uno scandalo dagli esiti incerti che è questo degli accessi in debiti in banche dati comunque sia c'è sempre una parte di questo Stato che lavora contro un'altra c'è chi sta appostato per giorni per catturare un latitante e c'è chi invece fa sparire dati da un computer ecco allora il punto è che spesso anche chi è stato causa all'epoca di tutto questo dolore e ripeto le Brigade Rosse sono una parte della vicenda perché ripeto la questione è perché Viafani Viafani è diverso dal rapimento Moro il rapimento Moro è una cosa è un affare di politica internazionale la strage di Viafani è un atto completamente gratuito dal punto di vista militare che qualcuno può aver letto come il segnale di un attacco allo Stato perché è il più alto è quello che negli anni insomma è stato chiamato così neanche la RAF pure insomma che aveva discreto pelo sullo stomaco faceva questo quindi il problema è perché noi siamo qua a chiederci ogni anno senza poi ci sono state due commissioni Moro tutte le commissioni stragi io penso che in particolare i familiari delle vittime che sono vittime due volte esiste un fenomeno che si chiama di vittimizzazione secondaria per cui continuano a essere poi negli anni anche dovendo diciamo così accettare rapporti con persone che hanno ucciso i propri cari ecco io penso che una risposta almeno a loro si dovrebbe e poi sentiamo su questo come lo Stato poi si è comportato con i familiari delle vittime siamo andati lunghi in questo capitolo allora diamo la linea subito alla regia di Alessio Tancorra Viviana Tartaglia e poi torniamo terzo capitolo di crimini e criminologia l'ultimo dedicato alla strage di via Fani e ai tanti misteri del caso Moro poi volteremo pagina nell'ultima parte con Italia in giallo e nero tra poco poi ulteriore parentesi legata al 4 novembre festa nazionale ma restiamo sul caso Moro e andiamo ad aprire un altro un altro capitolo che riguarda la perizia balistica sempre dalla video inchiesta di Gianluca Cicinelli adesso andiamo a sentire Pari De Minervini che forse il massimo chiedo conferma forse il massimo esperto balistico in Italia senza ombra di dubbio Moro illeso nonostante quella pioggia di fuoco in tanti si saranno chiesti come hanno fatto a uccidere gli uomini della scorta senza che nessun proiettile abbia attinto il corpo dell'onorevole Aldo Moro Minervini esordisce dopo una domanda dello stesso Gianluca Cicinelli appunto una domanda che in tanti si sono posti vediamo portare a compimento il rapimento di una persona che rimane illesa all'interno di una sorta di cerchio in cui si chiude la vita di 5 persone è un'impresa che richiede addestramento richiede addestramento e armi affidabili in quel momento tranne le M12 io non vedo armi affidabili quindi non abbiamo armi affidabili e non abbiamo per loro stessa ammissione personale addestrato sì esatto diciamo che con le nuove tecnologie forse era meglio rimettere insieme tutti gli elementi balistici e rifare un'unica lettura e confronto e comparazione di tutti gli elementi balistici con le nuove tecnologie i tempi sono passati di anno in anno abbiamo nuove tecnologie nuove esperienze nuove possibilità di effettuare test e la cosa più importante in questi casi è mettere insieme tutti i materiali e per effettuare poi quello che non permette propongo sempre di fare quello che si chiama il rock drill gli Stati Uniti ci insegnano su questo aspetto della ricostruzione nazionale del crimine in scala uno a uno fare questo visto che ci sono ancora degli elementi sicuramente avrebbe sfatato con le nuove tecnologie nulla da eccepire sul lavoro fatto dai miei precessori per il momento che era anche il mio papà all'epoca utilizzava una letta di ingrandimento ora si usa il microscopio questo ci porta però a comprendere i nuovi segni che vengono lasciati sulle armi e nello stesso momento ad abitarli sicuramente all'arma giusta poi torneremo da Pari dei Minervini esperto balistico intervistato da Gianluca Cicinelli ma Pari dei Minervini faceva riferimento alla lente di ingrandimento che impugno perché andiamo ad aprire un'altra delle nostre rubriche e la lente di ingrandimento la introduciamo con il titolo di un libro intanto vediamo il titolo che abbiamo scelto perché racchiude tante cose Aldo Moro una verità compromessa con riferimento anche a quello che fu il compromesso storico di CPC possiamo vedere anche la foto del libro di Michel Emi Maritato che oggi non è potuto essere con noi questo il suo libro la prefazione l'ho curata personalmente il punto dell'avvocato Nino Marazzita che fu anche legale della famiglia Moro l'introduzione del professor Luca Marrone spesso nostro ospite e la testimonianza di Giovanni Ricci non abbiamo fatto in tempo a riportarla ma c'è all'interno una bellissima foto con Giovanni papà Domenico e tuo fratello che si chiama Paolo Paolo ecco c'è una bellissima foto poi se avremo tempo ricorderemo anche Aldo Moro quello che è il tuo ricordo di Aldo Moro però intanto buonasera alla dottoressa Barbara Fabroni salve ben trovata buonasera a voi psicoterapeuta giornalista e criminologa la prima domanda da Gabriele Rao sì io dato che abbiamo parlato per ora del sequestro vorrei con lei dottoressa Fabroni passare anche a lungo per molti lungo in maniera sospetta periodo di prigionia di Aldo Moro sappiamo che nel corso di questo periodo Moro ha prodotto un gran numero di lettere se non sbaglio il numero ufficiale del carteggio dei carteggi di cui disponiamo è di 86 lettere chiaramente con tutte le differenziazioni del caso mi viene in mente anche un paragone con la vicenda di Gramsci che riuscì a deludere in un certo senso la censura a fare arrivare a togliati determinati messaggi ecco chiaramente le differenze sono tantissime anche di natura ideologica e non solo però vorrei chiederle secondo lei recuperando questo materiale è possibile trarre magari delle informazioni utili e ulteriori per quanto riguarda non solo la sua prigionia ma anche in generale il funzionamento gerarchico quotidiano se vogliamo della vita delle brigate rosse dato che prima si parlava un po' del pentimento del mancato pentimento molto non è stato detto al di là di come la si pensi vorrei un suo punto di vista su questo guardi io tendo sempre a riportare gli eventi nel loro momento storico quindi guardare quello che è la storia del paese in questo caso dell'Italia all'epoca in cui c'è stato l'attentato di Aldo Moro io credo che quella data sia una data veramente spartiacca è stato il nostro 11 settembre senza dubbio lo stagista al tempo stava mettendo aveva un piano molto importante quello come dicevate poc'anzi di mettere insieme sia la democrazia cristiana che il partito comunista per cui un periodo estremamente caldo c'erano le brigate rosse eravamo alle porte del quarto governo Andreotti per cui una situazione veramente politica molto effervescente c'era il boom economico per cui un'Italia in crescita in quel momento specifico c'era questa grande avvenzione e questa grande voglia di costruire un'Italia che potesse essere gettata diciamo così in quello che era veramente questo boom economico ad un'apertura molto più internazionale senza dubbio questo evento come dicevo prima è un grande spartiacqua che poi ci permette anche di comprendere in quei 55 giorni di prigionia una cosa importante perché sì le brigate rosse lì hanno il loro apice ma segnano anche quello che poi sarà la loro decadenza la loro fine lo stagista Aldomoro sicuramente in quelle sue 86 lettere ci racconta e ci narra tantissime cose il suo punto di vista ma anche ci sono delle lettere in cui lui chiede comunque aiuto ma questo aiuto non viene come dire raccolto un aspetto importante dato anche dallo stesso Papa VI che ha un ruolo importante in questo periodo per cui chiaramente ritornando alla sua domanda quello che noi possiamo cogliere da questa vicenda è innanzitutto cogliere la testimonianza storica e il momento storico oggi lo possiamo tradurre in quello che è un monito una conoscenza ma anche una riflessione su quelli che sono i corsi e i ricorsi storici per farne tesoro e quindi costruire anche una risposta per così dire migliore a quello che è il nostro tempo che stiamo vivendo andiamo a un altro contributo che riguarda sempre il perito balistico e così introduciamo il discorso lato destro di via Fani coperti a destra appunto la video inchiesta di Gianluca Cicinelli che è qui in studio quattro bossoli 7,65 vengono ritrovati sul marciapiede destro della strada danno l'idea che qualcuno abbia sparato da quel lato ma non c'è nessuna arma tra quelle indicate dai periti che corrisponda al calibro 7,65 non è mai stata identificata e allora da quale arma sono stati sparati il perito balistico Paride Minervini ci risponde a quanto pare infatti non si riesce a comprendere innanzitutto i proiettili del 7,65 che cosa hanno attinto che è fondamentale l'altra cosa è addebitare il 7,65 a un'arma quale è il tipo di arma? una Valtteri PPK? una Valtteri PP? non lo posso non è dato saperlo ancora benissimo l'altra cosa fondamentale è che noi abbiamo un'espulsione se è confermato il modello dell'arma a destra il che significa che la persona che ha sparato era in una posizione sì sulla destra ma che guardava verso le auto ma una cosa ancora più interessante è quando questa persona poteva occupare questa posizione visto che noi abbiamo un gruppo di fuoco sulla sinistra certo è che non era il caso di occupare quella posizione mentre questi qui mentre il gruppo di fuoco sulla sinistra sparava domanda quando l'uomo ha potuto fare questa azione di fuoco giusto interrogativo che si pone il perito balistico Paride Minervini adesso però torno da Mario Ciaccio ricordo direttore artistico di quella che è l'associazione poi non ne abbiamo parlato nello specifico se avremo tempo ne parleremo possiamo anche vedere intanto la logandina di musica per la memoria così ne approfittiamo ricordiamo anche questo bel evento giovedì 14 marzo alle 20 e 30 all'acquario romano piazza Manfredo Fanti 47 dicevo direttore artistico dell'associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani un altro brano da leggere Mario Ciaccio anzi continuiamo volevo aggiungere che quest'anno avremo 40 rappresentanti delle famiglie delle vittime ah ecco quindi questo è importante una testimonianza diretta questo evento è dedicato a loro e ci fa molto piacere siamo quasi commossi dal fatto che abbiamo avuto 40 adesioni e vengono da tutta Italia Sardegna Proderone quindi questo è molto bello e allora continuiamo con la storia di continuiamo a emozionarci con la storia che hai iniziato a leggerci prima e vediamo le immagini con Alessio Tancorra prego Mario Ciaccio dunque dunque ce l'avevo fatta ero nel reparto scorte avevo solo 23 anni e coronai un sogno mi abitui al clima teso di Roma e ebbi subito la consapevolezza del loro che stavo ricoprendo a febbraio nel 1977 mi arrivò la notizia che avrei dovuto far parte della scorta del loro nevole piccoli uno degli uomini della DC settimane dopo la notizia che mi sarei dovuto unire alla scorta di Aldomoro conobbi così i miei nuovi compagni Oreste Leonardi Domenico Ricci Francesco Zizzi Raffaele Iozzino fu come incontrare nuovi fratelli una nuova famiglia la prima volta invece che conobbi Aldomoro fu un pomeriggio d'estate faceva un caldo tremendo il presidente voleva trascorrere un fine settimana con la famiglia a Terracina mi sentivo fortunato certo fare la scorta di Aldomoro presidente della DC era un compito che potevi svolgere non con tanta tranquillità l'attenzione la percepivi quotidianamente ogni sera ogni attimo solo quando tornavo al mio paese respiravo quella serenità di cui avevo goduto da bambino era come rientrare in un oasi di pace gli abbracci con la famiglia con mia madre i suoi pranzi prelibati il caffè al bar centrale con gli amici tanti complimenti tante raccomandazioni ricordo gli abbracci di mia madre erano così lunghi che duravano quasi tutta la mia permanenza in paese e il bene di una madre Giulio 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 pronunciava il mio nome mille volte evitava di chiedermi del lavoro forse aveva paura di conoscere la mia vita quella di un uomo di scorta un giorno mentre stirava la mia divisa mi chiese ma Aldomoro vi vuole bene? una lacrima si increspò sulle sue ciglia l'ultimo Natale della mia vita lo trascorsi proprio con la famiglia Moro il presidente aveva deciso di invitare a pranzo almeno quelli che sarebbero rimasti in servizio durante le feste avevo instaurato col loro rapporto di confidenza in particolare con il piccolo Luca il nipotino al quale Aldomoro era legatissimo tornai a Guionesi poco prima di Pasqua la primavera emanava profumi intensi forti come le emozioni che provai allontanandomi per l'ultima volta dal mio paese 16 marzo 1978 alle ore 9.05 i nostri sogni si infranzero nella morte accadde quello che tutti temevamo quei proiettili ci attraversarono l'anima un dolore che segnò per sempre le nostre famiglie e il nostro Stato Democratico un abbraccio Giulio Rivera Giulio Rivera uno dei caduti nella strage di via Afani a proposito dei caduti Giovanni Ricci figlio di Domenico l'autista di Aldomoro ricordo tempo fa in un'altra intervista che feci a Giovanni Ricci a proposito di quanto lo Stato vi è stato scusate il gioco di parole vicino e io ricordo che la risposta fu l'arma tanto l'arma dei carabinieri c'è stata vicino tanto lo Stato un po' meno ricordo male no ricordi benissimo Fabio perché l'arma dei carabinieri c'è stata e continua ad esserci è un supporto non solo alla famiglia Ricci ma a tutte le famiglie dei caduti a cominciare dal comandante della stazione per arrivare ai più alti vertici lo Stato io non posso criticare lo Stato perché lo Stato ha fatto qualche cosa però voglio dire che è stato latente per anni diciamo che la legislazione per le vittime del terrorismo e i propri familiari arriva solamente nel 2006 diciamo ci ha voluto l'impegno e qui vorrei ricordare una mia carissima amica che è venuta a mancare poco tempo fa Mariella Maggi Dionisi moglie di Fausto Dionisi un agente della Polizia di Stato ucciso a Firenze dalle Brigade Rosse è stato grazie al suo impegno al nostro impegno perché abbiamo voluto fortemente che venisse riconosciuto il disagio anche attuale abbiamo fatto inserire in questa proposta di legge anche il supporto psicologico quindi siamo contenti che quando vediamo rientrare la salma di un nostro militare dall'estero per fortuna c'è accanto alla famiglia una psicologa o uno psicologo che le aiuta nell'affrontare cosa che noi purtroppo abbiamo dovuto fare con le nostre forze lo Stato è stato lontano dalle famiglie ma perché in quel periodo c'erano tanti morti pensiamo che ci sono stati solamente nel periodo dal 69 ai primi anni 80 381 morti quasi 5.000 feriti era un attentato al giorno in Italia quindi quello che ha potuto fare allora quello che non ha potuto fare allora è stato ripreso purtroppo tardi sì ma è meglio così perché oggi quando vedo rientrare appunto la salma di un nostro caduto dall'estero io sono contento vedere che vicino a quei familiari ci sia il supporto psicologico un altro contributo importante e l'ultimo per quanto riguarda il caso Moro del periodo balistico Pari dei Minervini perché i brigatisti ammisero di essersi allenati con le armi solo un paio di volte in campagna ecco sentiamo il periodo che dice su questa cosa perché questo è un altro lato oscuro di Via Fani Pari dei Minervini certo è fondamentale perciò noi dobbiamo cosa è il contrasto in tutto in questa azione di fuoco contrasta ripeto riteniamo al discorso iniziale contrasta il fatto che abbiamo delle rossate di tiro perfette ma delle rossate di tiro diciamo una sventagliata innoffiamento una sventagliata assurda che si arriva a primo o secondo piano del palazzo di fronte perciò noi abbiamo fatto delle prove sperimentali e dei test in poligono dove abbiamo fatto sparare con questi tipi di armi anche delle persone che non sono addestrate ed era impossibile per loro mantenere l'arma ferma era impossibile per loro creare e avere quella precisione nel tiro ma per una questione meccanica dell'arma perché è un'arma raffica che si dice scalcia perciò non è facile tenere la ferma ora addestrarsi un paio di volte in campagna credo sia troppo poco per arrivare a una raffica ben precisa anche se quello che da tenere in considerazione è che cos'è la distanza molto corta stiamo parlando di due metri e mezzo molte volte anche molto più vicino quello aiuta diciamo chi non è esperto contrasta con che cosa con quella che poi è una tecnica fondamentale cioè tutto ciò che la logistica legata logistica e l'appoggio legata a questo assalto è fatto abbastanza bene mi sembra perché c'è un'acquisizione dell'area c'è la macchina che ferma il corteo la macchina che tappa il corteo che significa le due macchine non potevano reagire con i loro movimenti e tutto ciò e c'è la macchina che si muove non si riesce a comprendere se viene indietro viene a caricare l'onerevole moro perciò c'è un movimento tutti riescono poi a prendere le auto e andare via che il coordinamento diciamo di chi comanda c'è Perito balistico Pari Nermini Nervini è stato chiarissimo torno dalla dottoressa Barbara Fabroni per ricollegarmi anche a quel commovente racconto a proposito di Giulio Rivera con Mario Ciaccio prima l'abbiamo letto ecco vorrei sentire lei e anche in base a quanto ci ha detto Giovanni Ricci no? quanto è importante il supporto psicologico Giovanni tu avevi 13 anni? Sì avevi fatto 13 anni a breve sì ecco quindi insomma un bambino gli viene detto che il padre è morto sotto i colpi in via Fani dottoressa quanto è importante il sostegno il supporto psicologico alle famiglie? Beh direi che è fondamentale anche perché comunque è una modalità è un aiuto è un sostegno a un disturbo post-traumatico che può emergere di fronte a una notizia scioccante di questo genere e questo il clinico accompagna il soggetto comunque all'elaborazione e alla presa di consapevolezza di quello che è quel momento che quel soggetto lì sta vivendo soprattutto un bimbo di 13 anni che si affaccia all'adolescenza ha bisogno e perde tra l'altro essendo in questo caso il signor Ricci un uomo perde il sostegno di un altro uomo quindi del padre che è figura di riferimento e di proiezione in un periodo dello sviluppo fondamentale per cui comprendo anche la difficoltà che deve esserci stata da parte del signor Ricci di poter affrontare sia il momento del lutto sia l'elaborazione anche della perdita di un padre in un momento focale della sua esistenza per cui credo che abbia fatto veramente un grande lavoro dentro di sé ma la cosa anche commovente voi avete parlato più volte del dolore il dolore che comunque lasciano eventi di questo tipo lo si rintraccia anche nella lettera che ha letto prima l'altro suo ospite quindi il raccontare la propria vita con l'entusiasmo di chi sta scegliendo un percorso di vita entusiasmante ma che poi si chiude con una data che taglia di netto come se fosse la tela di fontana e spezza una vita in questo momento però la bellezza tra virgolette consentitemi questo termine è che ci sono persone come i suoi ospiti che hanno comunque raccolto questo dolore lo hanno trasformato e lo hanno fatto diventare una risorsa perché comunque stanno stimolando prese di coscienza consapevolezza accompagnamento elaborazione anche di quello che è stato e purtroppo anche degli eventi che possono accadere adesso ancora nella nostra società e credo che di fronte a un dolore così grande quello che resta a noi è poterlo trasformare in un abbraccio verso l'altro in un appoggio in una testimonianza e anche in una comprensione di quella che è stata la vita di quella persona che ha perso la vita dedicandola allo Stato grazie alla dottoressa Barbara Fabbroni per la lente di ingrandimento di questa sera ci sentiamo martedì alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus dalle 11 alle 12 con lei e poi ci rivediamo domenica prossima grazie a voi buonanotte anticipo puntata speciale domenica prossima con il studio Pietro Orlandi parleremo di Emanuela Orlandi ora apriamo una parentesi avevamo già introdotta questa quest'altra storia altri caduti caduti per il regno d'Italia caduti della prima guerra mondiale Pasquale Trabucco ha raggiunto un obiettivo non si ferma vediamo questo contributo in cui in Parlamento viene nominato il tenente Pasquale Trabucco presidente del comitato per il ripristino del 4 novembre come festa nazionale lo cita un esponente di Fratelli d'Italia l'onorevole Loperfido vediamo viene alla mente l'Italia della disfatta di Caporetto ma poi l'Italia di Vittorio Veneto l'Italia delle battaglie del Piave del sangue versato sull'isonzo ecco allora che è giusto ricordare e ringrazio anche il comitato presente con Pasquale Trabucco che tanti anni ha lottato per fare in modo che qua finalmente il Parlamento riconoscesse che il 4 novembre dovesse essere una festa nazionale così il deputato Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia in Parlamento alla Camera nello specifico con l'approvazione di questa legge un primo passo però perché il tenente Trabucco non si arrende vediamo anche la lettera che ha mandato a deputati e senatori sicuramente è un primo passo importante però noi siamo soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo perché da quest'anno il 4 novembre che cade lunedì sarà finalmente ricordata la grande guerra alla fine di questa guerra la conquista di una pace come ho sempre detto e con l'aggiunta anche del termine e delle forze armate non si chiamerà più solo festa dell'unità nazionale ma festa dell'unità nazionale e delle forze armate certo per noi sarà importante quando questa data sarà nuovamente segnata di rosso sul calendario non perché vogliamo fare un giorno di festa ma perché vogliamo necessariamente che il ricordo sia concreto concreto nella nostra mente concreto nella collettività vi faccio un esempio sembra una cosa stupida è stato un momento importante quello era il 20 febbraio dopo una settimana perché ci sono stati dei rinvii non per dovuti alla proposta a questa proposta di legge ma per una serie di altri motivi si è arrivati solo al 28 febbraio all'approvazione della legge che era già stata diciamo discussa in Senato il 12 luglio e con il 28 febbraio è diventata legge dello Stato il 29 febbraio il giorno dopo tra l'altro ricorreva la morte del generale Armando Diaz nonché il mio compleanno ricordiamo nonché il mio compleanno ma voglio dire i giornali nazionali i giornali tutti forse in quarta quinta pagina in settima pagina nell'ultima pagina con un trafiletto hanno parlato di questa cosa ecco perché è importante che sia segnato di rosso cioè la collettività molta molta gente ancora non sa di questa novità che è una novità importante dal 19 1919 al 76 è stata festeggiata con gli effetti civili si parlava nelle scuole e tornerà a parlarsi delle scuole anche grazie a questa nuova legge appunto del 28 febbraio ma non è sufficiente abbiamo proprio bisogno degli effetti civili per far sì che tutti quanti ricordino quei caduti che sono i caduti di ieri ma sono anche i caduti di domani prima Giovanni Ricci il dottor Ricci il presidente di questa associazione così importante dedicata a Domenico Ricci a tutti i caduti del terrorismo diceva proprio questo quando vedo una salma di un caduto rientrare dai teatri operativi all'estero sono contento che ci siano anche questi psicologi che significa questo che purtroppo noi abbiamo avuto e avremo ancora caduti caduti della polizia dei carabinieri della finanza caduti delle forze armate quindi dell'esercito della marina dell'aviazione come abbiamo anche i caduti civili noi sappiamo benissimo che ogni anno cadono circa mille uomini o donne sul lavoro ecco i caduti sono un po' tutti anche nella grande guerra abbiamo avuto 550 mila caduti civili non dimentico mai i caduti civili della grande guerra li metto insieme ai 650 mila militari quindi noi siamo contenti abbiamo ringraziato il Parlamento ma anche abbiamo scritto lo stesso giorno al Parlamento ricordando la nostra battaglia continua e continua appunto fino a tanto che non ci sarà questo segno rosso sul calendario vogliamo veramente che la gente ricordi si fermi a pensare che non siano soltanto delle cilibrazioni quasi private fatte da pochi uomini da appartenenti magari appunto alle forze armate e alle istituzioni ma deve essere una cosa collettiva la gente deve sentire deve capire conoscere quanto quegli uomini e gli uomini di oggi continuano a dare sono servitori dello Stato spesso noi ci dimentichiamo di questo grazie e al tenente Pasquale Trabucco nella doppia veste ci ha ricordato quanto avvenne il 16 marzo del 78 e poi quello che fu il 1918 la fine della grande guerra che va ricordata il 4 novembre di ogni anno e grazie a Gianluca Cicinelli per la video inchiesta grazie a voi il tuo contributo la tua presenza un grazie speciale naturalmente a Giovanni Ricci il figlio di Domenico l'autista di Aldomoro rivediamo visto che vado a salutare Mario Ciaccio musica per la memoria questo evento per non dimenticare ecco qui le vittime del terrorismo delle forze dell'ordine giovedì 14 marzo ore 20 e 30 a Roma presso l'acquario romano piazza Manfredo Fanti 47 ingresso libero leggo ma immagino che ci siano molte adesioni quindi diciamo che abbiamo il sold out siete già sold out quindi ecco lo diciamo magari no però possiamo aggiungere che sarà trasmesso sul canale YouTube e canale Facebook di una testata che è specializzata per la musica delle bande militari si chiama Alamari musicali ecco questa è un'ulteriore informazione importante grazie a Mario Ciaccio direttore artistico di quella che è l'associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di Via Fani che fa tanto e tra le altre cose anche questo musica per la memoria quindi grazie a tutti tra poco però noi torniamo con Italia in giallo e nero per parlare dell'omicidio di Chiavari chi ha ucciso Nada Cella ne parliamo tra poco di Chiavari